Lago Dendine ghiacciato, gli amministratori dei comuni lacustri si incontrano per cercare di trovare una strategia comune nella gestione del bacino. Massima attenzione al ghiaccio anche in questo periodo in montagna, lo ricorda il nuovo delegato della sesta aerobica del soccorso alpino Marco Astori. Gromo al museo delle armi bianche e delle pergamene, opere dell'artista Daniele Diliddo da Dill per Nemmeno con un fiore. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. In Vale di Scalve si sta organizzando una manifestazione di protesta che dovrebbe tenersi fuori dalla sede della provincia di Bergamo. La comunità di Vilminore e dei paesi vicini attendono una soluzione da quando lo scorso 28 ottobre una frana tagliato in due la strada provinciale 58. Di fatto si chiede di ricorrere almeno a una temporanea soluzione come il passaggio carrale a senso unico alternato nella parte di strada che non è franata a valle. La manifestazione dovrebbe tenersi mercoledì 9 gennaio tra le 10 e le 11. In base al numero dei partecipanti potrebbero essere organizzati uno o due pullman. Su Facebook è stata aperta la pagina evento Manifestazione Frana SP 58. Le temperature degli ultimi giorni hanno permesso alla superficie del lago di Endine di ghiacciare. Qualche avventuroso pattinatore sta già approfittando della pista naturale nonostante i cartelli che indicano i rischi. Nel frattempo oggi amministratori del territorio e enti preposti a intervenire nel caso di emergenza e si sono riuniti intorno a un tavolo. Sul posto per noi è andato Nicola Androletti. Perché questo incontro con tema il lago ghiacciato e tutto quel che ne consegue? Siamo nel periodo dove avviene questo fenomeno naturale particolarmente affascinante e straordinario sicuramente che è il ghiacciamento del lago di Endine ma è un fenomeno che comunque porta moltissime persone anche solo o a visitare dalla riva il lago ma anche ad accedere alla superficie ghiacciata. Questo ovviamente provoca una situazione di possibile pericolo, una situazione eccezionale di emergenza. Ecco perché abbiamo voluto organizzare questo tavolo, questo incontro con gli enti e le strutture interessate a questa tipologia di possibili eventi. Quindi i comuni attorno al lago, i gruppi di protezione civile, Areu 118, la Croce Rossa, i vigili del fuoco e i carabinieri. Tutte c'è quegli enti e quelle strutture che in caso di emergenza attraverso catene varie e protocolli di soccorso sono tenute ad intervenire. L'obiettivo è quello di capire quale può essere la miglior procedura e quale può essere la migliore informazione per la popolazione e per i turisti che accedono alla superficie del lago. A che cosa ha portato questo incontro? L'incontro ha fatto chiarezza su quelle che sono le procedure da attivarsi. Ovviamente nessuna procedura particolare è stata attivata in questo senso in termini di emergenza. Continua la nostra informazione, la nostra campagna di comunicazione per segnalare il pericolo perché resta pericoloso l'accesso al lago e resta comunque responsabilità di ogni singola persona l'accesso alla superficie ghiacciata. Da parte degli enti di soccorso ovviamente la consueto ha disponibilità e hanno riconfermato il fatto che interverranno come è procedure in caso di emergenza. Si è deciso di non attivare nessun tipo di presidio attorno al lago proprio perché resta una situazione di pericolo, una situazione che va monitorata ma sconsigliamo l'accesso al lago e da questo punto di vista quindi non viene attivato nessun presidio fisso. Da qualche anno, è stato detto anche durante l'incontro, state cercando di andare un po' oltre la logica dei divieti, delle ordinanze per fare più informazione invece? Esattamente. Quello che è stato il lavoro insieme ai miei colleghi sindaci che ringrazio insieme al comitato in Valcavallina è stato quello di capire quale poteva essere la soluzione migliore per l'incolumità delle persone. Il divieto di accesso che comporterebbe anche tutta una struttura in termini di personale per monitorare, per vietarne proprio fisicamente l'accesso diventa un percorso impossibile, un percorso che non si può gestire in così poco tempo per un fenomeno naturale così vario. Ecco perché invece abbiamo avviato una campagna di informazioni importante, quindi non c'è più il divieto ma c'è invece la segnalazione di pericolo ben precisa e concreta che persiste in questo periodo. In qualche modo è stato lanciato un ponte anche verso l'estate perché del resto il lago è pericoloso anche nella stagione calda. Esatto. Il nostro lago di Endine è uno dei pochi laghi nelle nostre zone in Italia che ha questa particolarità. D'inverno è sicuramente il fascino del ghiaccio ma d'estate è il fascino del lago estivo e della balneabilità. Da un po' di anni ormai è tornato appunto balneabile, esistono già delle strutture di soccorso salvagenti posti attorno al lago ma non esiste una vera e propria struttura o supporto al soccorso in caso di possibili annegamenti o problemi. Ecco perché su spunto anche di Areu e del 118 ci si è già programmati per incontrarsi in primavera per capire anche qui quali possono essere le azioni da mettere in atto. Un tetto pericolante è all'origine della temporanea chiusura di una via del centro di Clusone via Pietro Fanzago. La strada che sale da Piazza Orologio è stata chiusa per scongiurare il rischio caduta di elementi della copertura di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Gazzaniga. Il tratto è stato interdetto sia dal traffico veicolare sia ai pedoni. L'intervento di sistemazione e la successiva riapertura è programmata per la giornata di domani. Sul posto è intervenuta la polizia locale. E con l'inizio dell'anno la sesta delegazione del soccorso alpino ha un nuovo delegato. Al termine del mandato di Elia Ranze il testimone è passato l'alpinista Marco Astori. Noto alpinistro abbiamo già detto 39 anni da 15 anni nel soccorso alpino già capo stazione a oltre il colle. Ecco Astori da qualche giorno ha preso le redini della sesta delegazione del soccorso alpino. Come sta andando innanzitutto? Allora diciamo grazie e grazie dello spazio appunto che ci dedicate per presentare questa realtà che è comunque una realtà importante sul territorio di Bergamo. Diciamo che l'hanno iniziato in modo abbastanza impegnativo per la nostra delegazione. Ad oggi abbiamo già fatto 5 interventi di soccorso alpino, alcuni anche per tragedie della montagna e si sta rivelando naturalmente un inverno anomalo, un po' adatto dalle condizioni meteo che si sono stati finora nell'inverno per cui poca neve, pochissima neve, vento e particolarmente vento caldo in quota che ha causato la presenza di ghiaccio e la presenza di ghiaccio è la causa un pochettino degli incidenti che si sono in questi giorni. Bisogna prestare molta attenzione perché non è quel ghiaccio che rischia di far veramente creare le trappole alle persone perché può essere nascosto sotto del terriccio, sotto del ghiaietto, sotto l'erba, non è il classico ghiaccio bianco che si può vedere col manto innevato insomma. Per cui è veramente pericoloso in salita, in discesa, è importante essere ben attrezzati i ramponi di una certa consistenza che possono essere definiti i ramponcini delle scarpe del tennis, una piccozza e molta molta prudenza. Ecco per cui l'anno mi sento di cominciare a fare questo preambolo perché appunto è iniziato in modo tragico per gli escursionisti in montagna. Quindi ci vuole sempre una certa attenzione e l'insidia in sostanza in montagna può esserci sempre e soprattutto in questa stagione. Esatto, c'è questa stagione con queste condizioni particolari che sono anomali insomma ecco perché la mancanza di neve ci esenta dal pericolo delle valanghe ma ahimè ci dà questi rischi sulle escursioni. Ecco questa è un po' anche l'occasione per presentarla. Da quanti anni hai nel soccorso al Pino? Allora sono nel soccorso al Pino da 15 anni, sono sempre stato iscritto nella stazione di Oltre il Colle e sono stato capo stazione nell'ultimo anno nella stazione di Oltre il Colle e appunto dal primo di gennaio ho questo onore di gestire e comunque di coordinare la sesta delegazione aerobica. La sesta delegazione aerobica sono un centinaio di volontari divisi su sette stazioni che coprono appunto tutto il territorio della provincia di Bergamo, le stazioni sono la Valle Brembana, la Valle Imagna, la Media Valle Seriana, Clusone, Val Bondione e Schilpario e oltre il Colle dove appunto c'ero io. Queste stazioni appunto sono distribuite in modo più o meno omogeneo insomma, copriamo appunto tutto il territorio della provincia di Bergamo e sono composte da questi volontari che hanno al loro interno varie qualifiche dal semplice operatore al tecnico un po' di tempo avanzato per poi arrivare ai tecnici dell'elisocorso, all'unità cinofile, da ricerca di superficie, da valanga, insomma ci sono parecchie specializzazioni poi all'interno delle varie personalità. E sono 79 gli istituti scolastici bergamaschi ancora senza direttore dei servizi amministrativi. ma l'anno nuovo si apre con una positiva novità per il mondo della scuola, l'atteso concorso per i DSGA è stato finalmente bandito. Sono ben 2004 i posti messi a concorso di cui 451 nella regione Lombardia. Le domande per il concorso potranno essere presentate entro e non oltre il 29 gennaio. Potranno partecipare anche giovani laureati che non hanno mai lavorato nella scuola. La CISL Scuola seguirà passo dopo passo tutte le fasi per la corretta presentazione delle pratiche e in un apposito incontro informativo illustrerà i requisiti di ammissione, il programma d'esame e l'articolazione del concorso. Sarà anche presentato il percorso formativo di preparazione al concorso che sarà a breve attivato dalla CISL Scuola Bergamo. Tale percorso prevederà incontri in presenza ed esercitazioni su apposita piattaforma online. L'incontro gratuito e aperto a tutti gli interessati si svolgerà sabato 12 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l'auditorium dell'Istituto Quarenghi di Bergamo in Eviale Europa al numero 27. E domani sera a Casnigo è attesa l'ormai consueta rappresentazione dell'arrivo dei Re Magi. Quest'anno, come sempre, come tradizione, i Magi partiranno la sera del 5 verso le 19 dopo le cerimonie religiose dal Santuario della Santissima Trinità. Scenderanno in corteo, ovviamente con i bagliettere, pastori, figuranti e tutto il resto, servitori, ancelle, e si fermeranno a Santo Spirito dove avverrà l'incontro con Erode. Questo incontro si dividerà in due fasi. Una prima fase vedrà un dialogo fra un nonno, che rappresenta la tradizione locale, non dico solo casnichese, intendo proprio valgandino quantomeno, il quale evidentemente parla dialetto, ma cerca di aprirsi verso il nipotino, che rappresenta le generazioni che devono venire, il quale al contrario parla solo italiano, ma a sua volta cerca di aprirsi verso il nonno, quindi un'apertura verso la tradizione, verso il recupero di queste nostre radici. Poi ci sarà il solito incontro con Erode, il corteo quindi proseguirà e si chiuderà in chiesa con il presepio vivente, che è stato allestito in chiesa, e davanti al quale i re magi faranno la loro adorazione. Sia a Santo Spirito che in chiesa ci sarà poi la distribuzione della tradizionale calzina, anticipo dei doni, che poi durante la notte i magi passeranno a distribuire ai bambini buoni, solo ai bambini buoni. La mattina del 6, dopo la messa, quindi possiamo calcolare verso le 11 e 10, 11 e un quarto più o meno, invece i re magi ricompariranno sul sagrato della chiesa per accettare i doni che i bambini vorranno portare, affinché i re magi poi li portino a tutti quei bambini che sono stati sicuramente meno fortunati di loro e hanno avuto meno. In cambio riceveranno un'arancia, che era il dono tipico che i re magi portavano ai bambini di un tempo e che noi vorremmo fosse il simbolo di una tradizione che dopo 500 anni ancora vuole andare avanti, ancora vuole essere un modo per esprimere le nostre radici. Ecco, questa è un'altra occasione anche per sensibilizzare in merito alla situazione del santuario della Trinità, in particolare del tetto. Beh, di sicuro diciamo che siamo arrivati a un punto per cui dopo 500 anni da che il tetto è stato sistemato comincia ad avere problemi gravissimi. Il rischio è che i re magi restino senza un tetto e non è un rischio, diciamo, campato in aria, è un rischio anche che potrebbe verificarsi addirittura durante una copiosa nevicata in questo inverno. Quindi noi ancora una volta rivolgiamo un caldissimo invito a tutti, dateci una mano, perché non tramandare ai posteri un monumento come è la Santissima Trinità vorrebbe davvero dire commettere un sacrilegio che le generazioni future non credo ci perdonerebbero mai. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2. Al MAP di Gromo, il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene, sarà possibile vedere alcune opere dell'artista Daniele Di Liddo, da Dill, esposizione inserita nell'ambito dell'iniziativa nemmeno con un fiore promossa dal circuito museale di Promoserio. L'inaugurazione è prevista per domani alle ore 15.30. Da domani il Museo delle Armi e delle Pergamene di Gromo sarà ancora più ricco. Sì, il MAP, il Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene di Gromo, da domani pomeriggio fino al weekend successivo alla festa della donna, in marzo, ospiterà un artista. Un'altra volta un artista uomo. Il MAP ha voluto scegliere per trattare questo tema del femminicidio, per questa rassegna nemmeno con un fiore, che vede la presenza di opere studiate ad hoc all'interno dei musei, del circuito Musei Est-Europia in Alta Val Seriana. L'artista in questione sarà appunto Daniele Di Liddo, da Dill, in arte da Dill, che ha voluto lavorare un'altra volta con il metallo, come già avevano fatto lo scorso anno Alessandro Zanni e prima ancora Gian Piero Schiavi, che hanno voluto lasciare il loro contributo proprio con questa tematica legata alla propria arte, del lavorare il metallo. Quindi troveremo appunto da domani il protagonista da Dill, con una serie di opere incentrate su questo tema, che ben si configurano all'interno del Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene. Sono andate quindi ad arricchire l'allestimento e l'hanno reso davvero molto curioso. Vi invitiamo domani alla presentazione, all'ora 15.30, che si terrà a Gromo, a Palazzo Milesi, all'interno della Sala Consigliare, dove sarà possibile appunto ascoltare appunto un racconto anche dell'artista riguardo alle opere che ha proposto. Vi lascio a questo punto alla presentazione dell'artista stesso, che con me ha in comune appunto di essere di formazione un designer. Quindi a maggior ragione che ho voluto ospitare volentieri da Dill all'interno delle sale museali del MAP. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniele Di Liddo, in arte da Dill. Sono orgoglioso di essere stato invitato per questa occasione. mi è stato chiesto di realizzare un'opera a tema, proprio per questa occasione, e dopo diversi pensieri è venuto fuori quasi, diciamo, automaticamente un concetto legato, partendo da un manichino, che era la figura femminile, dove dovevo dimostrare la sofferenza di questa donna, diciamo, succube dell'uomo. Io lavoro prettamente con dei materiali metallici, partendo dalle lattine, dagli scarti urbani odierni. Quindi ho utilizzato delle lattine per creare, diciamo, il rivestimento a questa donna, che rientrasse anche nel tema dell'esposizione. Spero che la realizzazione, che può risultare abbastanza violenta nell'insieme, ricordi però che nella realtà quello che succede a volte tutti i giorni è ancora più scioccante. E domani sera a Parre in programma invece un concerto gospel. Domani avete in programma un nuovo appuntamento? Sì, domani abbiamo in programma un appuntamento al Paladon Bosco di Parre, alle ore 21, in collaborazione col gruppo Insuperabili, che è un'associazione facente parte dell'Unione Sportiva Rovetta, che è sostanzialmente formata da dei ragazzi con delle disabilità che si trovano insieme per giocare a calcio. Successivamente al concerto di domani sera ci troveremo tutti insieme ancora il 12 di gennaio al Teatro Forzenigo di Villadogna. Lì invece saremo in collaborazione con il gruppo Avis, sempre alle ore 20.45. E il progetto come sta andando? Il progetto sta andando molto bene, il gruppo sta crescendo sempre di più, i coristi stanno aumentando, adesso siamo a un numero attuale di 27 coristi e 9 musicisti, però ovviamente le porte sono aperte a chiunque volesse far parte di questo gruppo e prendo l'occasione anche per ringraziare chi sta sempre dietro le quinte e non sul palco, in modo particolare il gruppo tecnici, il gruppo degli addetti alla sicurezza, il consiglio direttivo e in modo particolare il presidente Don Ivan Dogana. E di fatto comunque state crescendo anche con il repertorio e sono anche numerose le occasioni con cui le vostre esecuzioni escono dal nostro territorio. Esatto, stiamo cercando di rinnovare sempre di più il repertorio che presentiamo ai concerti, mettendo dentro canzoni sempre nuove all'interno della scaletta e sì, come è stato ben detto, i coristi non fanno parte solo dell'unità pastorale ma è esteso a più aree geografiche in più paesi relativi alla bergamasca. Ci sono coristi che vengono da Fiorano, da Ponte Nossa, da Gorno, da Prada Lunga e alcuni musicisti che arrivano perfino da Bergamo. Quindi ricordiamo le coordinate dei prossimi appuntamenti. Domani sera alle ore 21 al Paladon Bosco di Parre, l'ingresso sarà libero e anche il 12 di gennaio l'ingresso sarà libero e sarà alle ore 20.45 al Cineteatro Forzenigo di Villadogna. Da lunedì sono al via i corsi di scidi di discesa promossi dallo Sciclub 13 Clusone. Anche se la stagione con la nere quest'anno per ora non è stata particolarmente generosa, iniziano le attività rivolte ai bambini delle elementari. Le lezioni del corso base, 8, si svolgeranno ogni lunedì o mercoledì. Alla fine del percorso è prevista anche una piccola gara. Le lezioni avverranno sulle piste del Monte Pora. Per informazioni è possibile scrivere un'email al seguente indirizzo discesa chiocciola sciclub13.it o contattare Niccolò al seguente numero 346 79 85 328 oppure Luciano al 340 27 25 829. E ora continuiamo con la rubrica Erbe e salute a cura della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Ci incontriamo nell'anno nuovo quindi siamo invecchiati di un anno ma ci ritroviamo tutti insieme e questa è una buona cosa. Questa sera vorrei parlarvi della storia della Mirra perché oggi è il 4 e fra due giorni praticamente ci sarà l'ultima festività che ricordiamo tutti con facilità come festa della Befana il 6 di gennaio. Mentre ormai è andata in disuso diciamo così ricordarsi la festa dell'Epifania ricordiamo che la Mirra vediamo già i primi cenni perché è ricordata nell'antico Egitto come olio da utilizzare per gli imbalsamatori ma nella nostra tradizione cristiana quando ricordiamo la festa dell'Epifania praticamente la troviamo nel Vangelo secondo Matteo la Mirra la troviamo come regalo che i magi portano a Gesù Bambino troviamo comunque degli accenni di Mirra anche nel Cantico dei Cantici e la troviamo di nuovo nel Vangelo secondo Marco miscelata praticamente al vino che viene fatto bere a Gesù prima della crocifissione quindi vedete che la storia la tradizione dell'utilizzo della Mirra è vecchissima dal punto di vista fitoterapico allora il nome botanico della Mirra è Commifora Mirra è una pianta che cresce nella zona del Mar Rosso in India e in Madagascar e ha la caratteristica di avere tantissimi fiori verso l'arco primaverile e la formazione sul fusti di alcune diciamo noduli di alcuni noduli che si rigonfiano e si arricchiscono di una linfa è una gomma resina precisamente questa gomma resina comincia poi a colare da questi noduli del tronco e dei rami viene raccolta, fatta essiccare e si polverizza il principio attivo della Mirra sono molto utilizzati soprattutto per le patologie della mucosa orale piaghette, afte la trovate sotto forma di polvere oppure ancora meglio di tintura madre funziona molto bene per toccature locali in tutti quei casi in cui per esempio si formano le piaghette per spostamenti della protesi quindi sciacco logicamente non si ingerisce perché non si può bere ma si può comunque far la toccatura con un cotto fioc sulla piaghettina ha un principio attivo abbastanza amarognolo comunque molto cicatrizzante fatevi consigliare il dosaggio adeguato dal vostro farmacista o medico di fiducia arrivederci e buona serata ci fermiamo per una breve interruzione tra poco Rieccoci in onda con i lettere giornali di Antena 2 ora continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target alle 22.10 la rubrica Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.15 decoder alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale numero 218 del digitale terrestre mentre sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antena 2 Sport mentre alle 22 la partita di calcio in replica a Pradalunghese San Pellegrino ecco l'almanacco per domani sabato 5 gennaio il sole sorge alle 7.56 e tramonta alle 16.55 il culmine è alle ore 12.25 la durata del giorno è di 8 ore e 59 minuti la luna sorge alle 7.23 tramonta alle 16.29 la fase lunare la luna è nuova e visibile al 5% la chiesa ricorda Santa Amelia ecco le previsioni del tempo sabato cielo sereno parzialmente nuvoloso per velature su prealpi e orobie qualche nube in più sui settori eretici dove saranno possibili deboli nevicate specie dalle ore pomeridiane e lungo le creste eretiche e temperature in aumento per venti di Fön e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.